Il Presidente della Repubblica E' un'italiana che scrive Mi perdoni se io semi-analfabeta Mi permetto chiarirle le mie idee Per quello che mi passa per la testa Onorevole Presidente Sono una ragazzina di 12 anni Caro Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat Io, Tartarelli Pierluigi, Francesconi Armando Ed un nostro amico Salvi Riccardo Frequentiamo la terza elementare E abbiamo deciso di andare su Marte E' disposto ad aiutarci? Grazie 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 Grazie